Benvenuti a tutti e benvenuti cari telespettatori alla rassegna stampa di oggi venerdì 5 maggio 2017 cominciamo dal santo di oggi il calendario ci indica il sangottardo il stato vescovo il sole sorto alle 5 53 tramonterà alle 20 e 15 minuti oggi sarà una giornata dopo la pioggia della notte una giornata che man mano si andrà a soleggiare con le nuvole che piano piano lasceranno il posto anche se ancora ne avremo per la giornata vedete il pomeriggio poi la sera la notte ecco questa è la fotografia della di questo venerdì poi domani domani mattina ancora tempo discreto ma nel pomeriggio vedete comincia a cambiare domani sabato pomeriggio comincia a cambiare la sera arriverà anche la pioggia compresa la notte poi domenica ecco qua il cielo per la mattinata il pomeriggio e la serata il resto del carino la pagina di pesero apre con la situazione dei ponti ponti di cui ogni tanto purtroppo si parla per la cronaca il comune di pesero ha attivato una verifica su cavalca ferrovia e sottopassi cittadini belloni l'assessore massima attenzione per questi ponti che sono da vegliare ospedale di muraglia con benedizione ceriscioli il presidente della regione sul progetto chiede la verifica dell'anticorruzione e del ministero della salute dunque ormai è fatta sgarbi al partito democratico la politica e l'arte vanno di pari passo scontro sul link in mostra le pagine interne la pagina di fano del cori del resto del carlino opere compensative porto incompiute sono troppi nodi così l'economia non riparte lo dice giovanelli e lo dicono giovanelli e santoro della cis che chiedono il comune di fano una visione strategica come per esempio quella sulla fano sulla vecchia fanurbino si decida che cosa fare dicono i sindacalisti metropolitana di superficie oppure bicipolitana alla fanon fortuna si parla di aeroporto a pagina 13 alla fanon fortuna erano noti i miei rapporti con eagles aviation rompe il silenzio gianluca santorelli contro la società sul presunto conflitto di interessi l'assemblea dei soci ha chiesto a ruggeri l'attuale presidente di nominare un esperto per analizzare gli intrecci intanto oggi pomeriggio alle 18 e 30 prosegue la commissione di indagine in comune con le audizioni di dirigente dei dirigenti daniela mantoni e pietro celani in qualità di componenti del servizio di controllo e di regolarità amministrative contabile del comune di fano drudi andiamo a pesero fondi per lo sviluppo del territorio il consiglio dell'ente camerale ha approvato i conti alla camera della camera di commercio dopo la dieta di renzi nonostante il taglio delle entrate l'ente ha una liquidità di 4 milioni di euro gatti in pericolo pompieri immobilitate attenzione in questi giorni c'è un stranete o forse statisticamente ci sta ma comunque sia c'è una raffica di telefonate ai pompieri una serie di allarmi per gatti miagolanti su tetti ed alberi dunque va tutto bene per carità di dio eccetera però ecco in questo c'è la richiesta da parte soprattutto dei vigili del fuoco di non esagerare con queste telefonate di andare troppo in allarme per questi gatti in difficoltà insomma l'invito alla moderazione rivolto ai cittadini e i vigili dicono chiamate solo quando la situazione sembra estremamente seria ricordando che fino ad ora come ricorda appunto uno spiritoso adagio non si è mai visto lo scheletro di un gatto sui rami degli alberi come dire se la cavano da solo da soli tranquillamente insomma bonus bebè già 250 potranno richiederlo tante sono le neomamme beneficiari aiuti alle famiglie servizi e fondi ad hoc siamo sul corredo adriatico di pesero a centro pagina invece le asfaltature stradali le asfaltature stradali via in città giorni di passione in città a pesero lavori sulla statale disagi da martedì ospedale invece di primo livello pressing sulla giunta seri mozione del movimento 5 stelle di fano per avanzare la richiesta alla regione per il sindaco a muraglia ci sarà il nosocomio di pesero la seconda pagina del di pesero primo piano del corriere lente camerale registra un rosso da 100 mila euro l'avanzo degli anni precedenti la compensa non sono aumentate le tasse per le imprese approvato il rendiconto 2016 in equilibrio entrate spese correnti nessun riferimento alla vicenda privata di drudi e sotto si parla dell'attentato ancora fano tv il perito oggi analizza i telefoni doveva farlo ieri poi c'è stato un problema non si è presentato quindi arriverà oggi in tribunale a pesero e l'incaricato oggi questo esperto informatico questo consulente informatico enzo criscione farà questo questa perizia sui telefoni dei tre indagati l'incarico dato dal pm silvia cecchi zaccarelli invece la moglie appunto di alberto drudi che è tra gli indagati respinge l'accusa non sono la mandante io non centro niente la pagina di fano assegnate al santa croce ai servizi del primo livello mozione dei 5 stelle incalza il sindaco e la giunta ad avanzare questa richiesta alla regione come abbiamo visto in primo piano poi sempre sul corriere la società in stato critico ma la colpa non è mia dice santorelli che rompe il silenzio si chiusero gli occhi e l'arbitrato invece verso l'altro ex presidente ferri all'assalto del bonus bebè ci sono già 250 neomamme all'inps vanno inviate le richieste ma anche il comune di pesero ha stanziato un ventaglio di fondi destinati alle famiglie ricordiamo che c'è tempo fino a un anno dalla nascita del bambino il beneficio del bonus è corrisposto dall'inps su domanda della futura madre al compimento del settimo mese di gravidanza oppure alla nascita o adozione o affido avvenute nel 2017 il premio cioè questi soldi sono concessi in un'unica soluzione da fossombrone appicca il fuoco al cestino dei rifiuti ma la videosorveglianza lo incastra parliamo di atti vandalici nel centro di fossombrone è stato identificato il piromane e guardando le immagini si è riusciti poi la polizia ha scovato anche un altro fatto per il quale poi hanno dovuto chiaramente andare fino in fondo ovvero un pirata della strada che si è schiantato vicino all'ex stazione ferroviaria contro dei paletti della segnaletica stradale danneggiandone anche diversi insomma e poi anche una parte del marciapiede a bordo di quest'auto c'era un albanese residente in loco e quindi insomma adesso dovrà pagare certamente i danni di quello che ha combinato l'altra notte la provincia invece di piso rubino batte cassa 8 milioni questa è la cifra da viale gramsci richiesta da viale gramsci per la gestione delle funzioni non ancora di fatto trasferita alla regione in più il conto lievita con gli anticipi non rimborsati e il presidente tagliolini dice ho i decreti ingiuntivi pronti nel cassetto ma non vorrei arrivare a tanto ma neppure rischiare di incorrere in un danno erariale dalla valle del cesano invece quasi un milione di avanzo bloccato pergo la protesta con il governo così non possiamo finanziare altre opere nel rispetto dei termini di legge la giunta baldelli ha approvato il bilancio costruttivo 2016 con dati importanti come gli 880 mila euro d'avanzo d'amministrazione e un milione d'euro tra servizi e lavori pubblici da senigalli appiccono il fuoco appiccano il fuoco in spiaggia il falò spento dai pompieri individuate alcuni ragazzi in fuga l'escalation delle notte vandaliche delle notte vandaliche danneggiamenti dispetti e violenze una lunga scia di episodi inquietanti dal lungomare alla cesanella poi la cronaca sotto sempre in primo piano sulla pagina in sinigallia una giovane donna che è stata trovata senza vita nel suo appartamento l'hanno trovata ieri mattina in via capanna al civico 5 una donna di 47 anni con un passato di tossicodipendenza e una vita difficile l'ultima pagina invece è quella di urbino la mille miglia compie 90 anni passerella ducale tra bolidi e feste tappa in città il prossimo 19 di maggio attesa una grande folla al passaggio e sotto invece a Piobbico un commerciante è stato arrestato per spaccio di droga un'operazione congiunta dei carabinieri di Piobbico e di Apecchio l'informazione di prima mattina quella dei giornali termina qui ci rivediamo domani mattina alle 7.30 puntuale in diretta stasera invece alle 8.30 alle 20.30 c'è il telegiornale A Occhio alla Notizia grazie per averci seguito buona giornata a tutti